Allora, un cordiale benvenuto, ti do il mio personale benvenuto in questo video che ha un titolo un po' particolare e cioè l'Avvocato Penalista spiega come uscire da un orrore giudiziario. Come sai, in Italia purtroppo ci sono tanti, troppi errori giudiziari di persone che si professano innocenti e che non vengono credute, di persone che vengono condannate ingiustamente per un reato che non hanno commesso. Ecco perché esistono gli Avvocati, per aiutare tutti coloro che sono accusati di un reato che non hanno commesso. Ora quindi questo video è realizzato per tutti coloro che sono appunto indagati, imputati o condannati ingiustamente in un processo penale. Perché questo? Perché ho deciso di fare questo video. Perché tutti coloro i quali si vedono indagati o imputati in un processo penale vanno incontro a uno stress, a una sofferenza, ad un'ansia, perché chiaramente si trovano di fronte a una situazione che non conoscono, accusati di un reato e quindi con la possibilità concreta di perdere tutto ciò che è a loro più caro, la libertà, gli affetti, i soldi e soprattutto, non per ultimo, la loro dignità. E allora ecco perché esistono gli Avvocati, per aiutare tutti voi, tutte queste persone a uscire da un orrore giudiziario. Se sei qui, quindi su questo, se mi stai ascoltando, vuol dire che dunque hai un processo in corso o magari sei stato già condannato. E quindi io voglio spiegarti quelli che possono essere, quello che può essere il modo concreto per uscire da un orrore giudiziario. Abbiamo questo tipo di ambizione. Ora, a questo punto tu potrai sollevare un'obiezione e potrai dire, sì vabbè Avvocato, ma io non è che devo guardare questo video, ho il mio Avvocato, oppure nominerò un Avvocato di fiducia che mi aiuterà a uscire da questa situazione. Ora, questa tua obiezione è assolutamente giusta, è assolutamente legittima, è assolutamente valida, ma posso dirti che è un'obiezione che fa acqua da tutte le parti e se avrai la pazienza di ascoltarmi ti spiegherò il perché. Allora, prima di partire però lascia che mi presenti. Io sono Francesco D'Andrea, sono un Avvocato penalista, sono un Avvocato del Foro di Milano e sono un Avvocato Cassazionista, quindi abilitato alle giurisdizioni superiori e quindi posso patrocinare le cause anche in Cassazione. Se vuoi sapere di più di me puoi andare sul mio sito www.avvocatofrancesco.andrea.it oppure puoi semplicemente scrivere su Google Avvocato Francesco D'Andrea e ti verrà fuori il mio sito dove potrai prendere tutte le informazioni su chi sono, sui processi che ho fatto e che faccio e su come posso aiutarti. Puoi seguirmi sui miei social, su questo canale YouTube, se non vado errato siamo quasi a 23 mila iscritti, tieni conto che io mi occupo appunto diciamo così di problematiche di carattere penale e ormai da anni ho questo canale dove vado a fornire a tutti gli utenti informazioni di valore in modo assolutamente gratuito. Se vuoi ancora di più approfondire su diciamo la mia persona, la mia professionalità, la mia vita, i processi che ho fatto e anche vuoi sapere dei consigli pratici in maniera più approfondita e soprattutto in una maniera molto chiara non per gli addetti ai lavori, allora puoi comprare il mio libro Avvocato di Difesa che trovi su Amazon. Bene, credo che abbiamo detto tutto in questa prima presentazione e allora andiamo a immergerci in questo video dove ti spiego come uscire da un orrore giudiziario. Allora, gli orrori giudiziari esistono così come esistono gli errori giudiziari. Basta guardare al passato, basta volgere lo sguardo all'indietro. Errore giudiziario in Italia, clamoroso. Il signor Enzo Tortora, lo ricorderai se non lo ricordi e sei giovane ti dico chi è, era un giornalista, un presentatore televisivo che era all'apice del suo successo e che un bel giorno purtroppo viene arrestato come nel libro di Kafka il processo perché accusato da un pentito di camorra di essere un pericolosissimo trafficante di droga. Tortora viene arrestato nel modo più brutto perché fotografie, i reporter erano già asserraiati nel luogo in cui si sapeva che sarebbe stato arrestato e quindi fu dato in pasto all'opinione pubblica. Io ricordo che ero bambino e tutti dicevano ma come è possibile che Tortora sia un trafficante di droga? E già in quel momento diciamo che qualcuno aveva scritto la sentenza ma in realtà era soltanto un'accusa. Alla fine si scoprirà che il pentito aveva detto una grandissima bagianata, Tortora finì in carcere, fece un processo muscolare e alla fine riuscì ad ottenere la soluzione. Io ricordo una frase di Tortora bellissima che disse ai giudici, disse io so di essere innocente, spero che lo siate anche voi. Tortora si fu assolto ma purtroppo quel processo lo pagò con la vita perché poi si ammalò, ebbe un tumore e morì e probabilmente quel tumore fu dato dalla sofferenza che patì per quel processo ingiusto. Quindi stiamo attenti, stiamo assolutamente attenti perché poi ci possono essere delle conseguenze non soltanto personali ma anche delle conseguenze psicologiche e fisiologiche a seguito di un processo penale. Ora, senza andare troppo in là e senza andare ai casi famosi abbiamo anche degli orrori giudiziari che purtroppo non vengono scoperti. Oppure dei sospetti su processi conclusi che magari potrebbero contenere degli errori giudiziari. Pensiamo ad esempio al caso di Erba. Sia chiaro, le sentenze si rispettano, ma siamo in un paese libero e democratico e anche una sentenza si può discutere. La strage di Erba, Olindo e Rosa Bazzi. È possibile che due persone incensurate, due persone, tra virgolette, normali, si trasformino in due mostri che riescono in un battardocchio a sterminare delle famiglie e a compiere un'azione degna di un commando di fuoco? Non lo sapremo mai. Oppure il caso di Bossetti. Anche qui ci sono tanti dubbi. Il DNA delle indagini fatte in maniera discutibile. È stato un orrore giudiziario? Probabilmente non lo sapremo mai. Ma al di là di questi grandissimi casi mediatici, vi posso assicurare che, e ti posso assicurare, a te che mi stai guardando, che ci sono tanti, troppi errori ed orrori giudiziari che non sono scoperti e che riguardano dei casi gravi, dei casi importanti, che però purtroppo non vedono accendersi su di loro i riflettori. Non c'è il clamore mediatico e quindi chiaramente è anche tutto più difficile. Ora, quindi premesso che gli errori giudiziari e gli orrori giudiziari possono esserci, noi avvocati dobbiamo fare in modo che questi errori e questi orrori non si realizzino nella realtà ed aiutare il giudice a prendere la decisione giusta. Io, guardate, ricordo sempre a tutti, ogni volta che parlo, anche a volte ai miei stessi colleghi avvocati, e lo ricordo anche ai giudici a volte in delle arringhe, che il giudice può sbagliare. Il giudice può sbagliare, la giustizia è amministrata da uomini, l'uomo è fallibile e quindi se l'uomo è un giudice, chiaramente il giudice può sbagliare. È chiaro dunque che un avvocato deve fare in modo di evidenziare, di accendere un cono di luce su quegli elementi in favore dell'imputato che magari sono in un angolo buio e non vengono quegli elementi lumeggiati e quindi far capire al giudice l'innocenza del proprio assistito. Bene, detto questo andiamo a vedere quali però possono essere non soltanto gli errori, abbiamo detto che appunto il giudice può commettere degli errori, ma attenzione, anche tu, indagato o imputato in un processo puoi commettere degli errori. E allora, qual è l'errore che tu puoi commettere? Io tutto quello che ti dico te lo dico sulla base della mia esperienza professionale, eh? Sia chiaro. Non sono io un broker di informazioni, non sono un professore universitario, sono un avvocato penalista che batte ogni giorno le aule di giustizia e quindi sulla base di quella che è la mia esperienza, ormai esercito questa professione da ben 15 anni, ho accumulato un po' di esperienza e cerco di dare dei miei consigli pratici. Qual è l'errore che vedo che molti commettono? Non tutti, ma molti. Un errore psicologico e cioè a volte di sottovalutare il processo, seppure si versi in uno stato di ansia, in uno stato di angoscia, però molte persone non essendo dei tecnici della materia vanno a fare degli errori. E l'errore qual è l'errore psicologico? Uno, fidarsi troppo della giustizia. In che modo? Mi spiego meglio. E ciò è dire, ma in fondo la giustizia è giusta e la giustizia farà il suo corso. Il giudice prenderà la decisione giusta. Abbiamo detto che un giudice può anche sbagliare. Oppure molti dicono il pubblico ministero farà delle indagini in mio favore. Infatti c'è un articolo, che è l'articolo 358, codici di procedura penale, che statuisce che il pubblico ministero può fare anche indagini in favore dell'indagato. Nella mia esperienza devo dire che ogni qualvolta io ho chiesto al pubblico ministero, poche volte devo dire, di aprire un filone di indagine su degli aspetti della vicenda, non ho avuto risposta. Ma questa non è soltanto la testimonianza mia, ma ci sono anche testimonianze di altri colleghi, di tanti colleghi che dicono, beh, io indicavo delle indagini suppletive al pubblico ministero, ma il pubblico ministero mi ha risposto picche. Quindi, nell'esperienza pratica possiamo dire che raramente il pubblico ministero fa delle indagini in favore dell'indagato. E ti dirò di più, quando viene emesso l'avviso di conclusione delle indagini, molti miei assistiti dicono, avvocato, ma io voglio essere sottoposto a interrogatorio così il pubblico ministero capirà la mia innocenza. Comprenderà che non sono colpevole. Ecco, questo ad esempio è un altro errore, non soltanto psicologico, ma anche un errore pratico, sottoporsi ad interrogatorio o comunque chiedere di essere sentito perché nella gran parte dei casi l'avviso di conclusione delle indagini prelude ad una richiesta di rinvio a giudizio. Perché? Perché il pubblico ministero si è innamorato della sua idea investigativa e la porterà avanti. Se non fosse stato così, allora il pubblico ministero avrebbe chiesto l'archiviazione, cosa che invece non ha fatto. Oppure altri mi dicono, non ci sono prove contro di me. Ecco, anche qui è una sottovalutazione del problema. Perché il concetto di prove è un concetto che molti non capiscono. La parola della persona offesa costituisce prova. Alcuni dicono, ma c'è soltanto la sua parola contro la mia. Sbagliato. Quindi tutti questi errori che adesso ti ho detto, cioè la giustizia farà il suo corso piena fiducia del giudice, ma il giudice può sbagliare. Il pubblico ministero farà delle indagini in mio favore, ma molte volte non lo fa. Non ci sono prove contro di me. Ti ho spiegato adesso che il concetto di prova molti non lo capiscono. Ecco, tutti questi errori rientrano nella precisa tipologia della persona superficiale che non conosce il sistema giudiziario e che ha fiducia nel sistema in maniera incondizionata. No, c'è un detto che dice aiutati, che Dio ti aiuta. Quindi se tu non ti aiuti, Dio non ti aiuterà. Quindi qualcosa devi fare. Ma poi abbiamo un altro errore psicologico, quello del disfattista. il disfattista è quello che dice, ma andrà tutto male. Andrà tutto male, non riuscirò a fare nulla. Il giudice ha già scritto una sentenza di condanna. E quindi? Che mi serve l'avvocato? Che mi serve andare al processo? Che mi serve produrre documenti? Che mi serve per raccogliere le idee. E poi? E poi? Non parliamo degli avvocati. Alcuni la pensano così. Non parliamo degli avvocati che sono tutti ladri e farabutti. Ecco, se pensi così devo dirti che in primis non puoi essere un mio cliente. In secundis cambia un consiglio assolutamente spassionato, cambia subito opinione, cambia modo di pensare, perché sei se parli così e se pensi così sei strafottuto. Sei strafottuto. Una volta, vabbè, facciamo perdere, va. Meglio non... Non vi faccio esempi, perché me ne sono capitati nel corso degli anni di persone di questo tipo che mi diceva un avvocato, ma il giudice ha già deciso. Non è vero. Il giudice non ha deciso. Il giudice decide sulla base delle informazioni che ha e che tu gli dai, che il tuo avvocato gli dà. Poi sì, ci può essere il giudice prevenuto, ci può essere il giudice che ha pregiudizi, ci può essere il giudice che è distratto e che non studia tutte le carte processuali. Tutto è possibile. Ma dire che il giudice ha già deciso è un'emerita stupidaggine. Bene. E quindi questo è il disfattista. queste cavolo di mail mi danno fastidio. Abbassiamo il volume, così nessuno ci scoccia. Ora, dopo il disfattista abbiamo il disorientato. Il disorientato o il conformista, meglio, è quello che invece, come dire, rimane fermo alle parole del suo avvocato. Come vedete, io non faccio la difesa d'ufficio della mia categoria. Mettete in dubbio anche le parole del vostro avvocato. Perché anche il vostro avvocato può sbagliare. Quindi, siate presenti, valutate tutto e confrontatevi con il vostro avvocato. Perché ci deve essere un rapporto di fiducia. Ecco perché si dice tra avvocato e assistito, vi deve essere un rapporto di fiducia. Questo lo fate soltanto con un rapporto franco, attraverso delle domande e delle risposte. Quindi, anche qui è molto importante che voi siate consapevoli di quello che succede. Ora, come uscire, qui veniamo, diciamo così, al punto di questo nostro video. Abbiamo visto gli errori, ma adesso vediamo come uscire praticamente da un orrore giudiziario. Allora, il primo consiglio che ti do è la scelta dell'avvocato. Scelta dell'avvocato che è fondamentale. Ora, non sto dicendo che devi scegliere l'avvocato più costoso, l'avvocato più blasonato, l'avvocato mediatico, l'avvocato che ha fatto uscire mia cugina che era stata implicata in una maxi-inchiesta scelta politico-mafiosa. No, anche perché non posso dare giudizi di valore. La scelta dell'avvocato dipende da te, dipende da quello che vuoi fare, da quello che è il tuo obiettivo, da quella che è la strategia processuale. Ora, ti voglio fare un esempio così ci capiamo meglio. E voglio fare un esempio su un caso importante, un caso che ha fatto storia, ed è il caso di O.J. Simpson. Lo ricorderete, il celebre giocatore americano di baseball, credo che fosse baseball, se non vado errato, e lui fu accusato di aver assassinato barbaramente la moglie e l'amante della moglie. Ora, O.J. viene messo in carcere dopo un arresto rocambolesco, perché sembrava che stesse scappando, e il suo avvocato, tra l'altro in un film molto bello, in una serie su Netflix interpretato da John Travolta, il suo avvocato gli consiglia di patteggiare. Negli Stati Uniti è ammissibile il patteggiamento anche per l'omicidio, cosa che invece non è possibile in Italia. Ora, O.J. Simpson dice, ma noi ce la possiamo fare, io non ho ucciso mia moglie, e comunque ci sono le prove per dimostrare la mia innocenza. E allora cosa fa? Capisce che il suo avvocato, che è un avvocato, diciamo così, semplifichiamo, un patteggiatore, uno che patteggiava tutto, non è l'avvocato che fa per lui, e nomina un altro avvocato, un avvocato di colore, non so se ricordi, ma O.J. Simpson era un afroamericano, nomina un avvocato di colore il quale legge le carte e capisce, e trova, come dire, il bandolo della matassa. Cosa scopre? Scopre che a indagare su O.J. Simpson è un ispettore di polizia razzista che probabilmente ha orientato le indagini contro O.J., uno perché era la cosa più semplice incriminare il marito, due sulla base di un pregiudizio razziale. Sulla base di questo assunto la squadra dei sogni, così furono battezzati dai media questi avvocati, riuscirono, questi avvocati riuscivano a far assolvere, ma il merito è stato dell'avvocato di colore, riusciva a far assolvere O.J. Simpson. Quindi è molto importante la scelta dell'avvocato. Secondo consiglio per uscire dall'orrore giudiziario, capire il processo. E qui arrivo all'obiezione di prima, ma io non sono un avvocato, devi capire il processo. Perché? Perché nel corso del procedimento ti troverai di fronte a delle scelte, dovrai prendere delle decisioni importanti, tipo ad esempio se decide che sei patteggiare. Quindi ammettere la responsabilità penale, concordare una pena col pubblico ministero, con diciamo così uno sconto di pena e arrivare alla chiusura del processo. Quindi non affrontare il processo vero e proprio, ma utilizzare il salvacondotto del processo per uscire dalla porta di servizio. Oppure invece se sei messo male, non hai niente da dimostrare al processo, ma non vuoi patteggiare perché puoi comunque discutere qualcosa, allora puoi scegliere il rito abbreviato. Cioè essere giudicato dal giudice sulla base degli atti di polizia. Anche qui avrai uno sconto di pena. Oppure se queste soluzioni non ti convincono, fare come O.J. Simpson. Quindi non patteggiare, ma fare il processo per controesaminare ad esempio la persona offesa, produrre documenti, portare a giudizio i tuoi testimoni per dimostrare la tua verità, la tua innocenza. Per fare tutto questo è un minimo, devi capirlo. Quindi non soltanto devi capire, con l'aiuto del tuo difensore, alcuni istituti processuali, ma soprattutto, carte alla mano, valutare i pro e i contro della tua vicenda giudiziaria. Terzo punto, la strategia difensiva. Quindi vuoi cercare di arrivare a una soluzione perché sai che hai delle prove importanti che puoi portare in tribunale, oppure fare il processo ad esempio per allungare i tempi, perché magari il reato potrebbe essere suscettibile di un indulto, di una prescrizione, cosa ne sai? Oppure di portare avanti quel processo perché hai altri processi in corso e quindi non vuoi andare definitivo. Possono essere varie le soluzioni, oppure decidi di chiudere nella maniera più veloce possibile il processo perché sai che hai poche chance e vuoi e non sei in condizione di poter affrontare il processo psicologicamente o fisicamente. quindi qual è la tua strategia? Qual è il tuo obiettivo? Ne devi parlare e questa strategia la devi concordare col tuo difensore. E allora andiamo in chiusura. Tutto questo quindi per rispondere all'obiezione iniziale lo devi fare in che modo? Interessandoti al processo e per interessarti al processo e per prendere queste decisioni devi assolutamente creare un rapporto di fiducia, un rapporto sinergico, una alleanza forte con il tuo avvocato di fiducia, con il tuo difensore. Se viene meno questo rapporto, se viene meno questa unione, è tutto più difficile. Perché? Perché tu devi comprendere chi c'è di fronte a te, quindi se quell'avvocato può essere utile alla tua causa, se quell'avvocato ti spiega bene tutto, se quell'avvocato può, come dire, indicarti la giusta via e insieme a lui puoi capire qual è la soluzione più giusta in un certo momento del procedimento. Ad esempio patteggiare, fare l'abbreviato oppure fare il dibattimento. Poi ci sono tante altre cose, se chiamare quel testimone o meno, se farti interrogare a dibattimento o fare dichiarazioni spontanee, eccetera, eccetera. Possono essere tanti gli esempi. Ma il rapporto importante di fiducia deve essere col tuo avvocato. Quindi per fare questo e per raggiungere un risultato devi esserci. Ricordati che tra l'esserci e il non esserci è nel processo penale fondamentale è esserci e quindi non delegare tutto al tuo avvocato perché questo potrebbe essere un grandissimo errore. E allora spero che siamo in chiusura, spero che questo mio video ti sia stato utile, sono sicuro di sì, ti avrà chiarito sicuramente degli aspetti. Se vuoi rivedilo, cerca di capire quegli elementi più significativi e se sei indagato, imputato o condannato, primo in secondo grado per un processo penale, per una condanna, e allora fai tesoro delle informazioni che ti ho dato e agisci per mettere in pratica questi miei consigli. Io ti ringrazio della tua attenzione e ti do appuntamento ai miei prossimi video. Se questo video ti è piaciuto iscriviti al canale e sarò, come dire, lieto che tu faccia parte di tutti quegli iscritti che ogni giorno mi sostengono con i loro feedback e con i loro complimenti perché noi avvocati penalisti viviamo del nostro lavoro, un lavoro che è fatto anche di e soprattutto fatto di cuore e passione e questa passione ce la date anche voi che ci seguite. Grazie e al prossimo appuntamento, al prossimo video. Ciao!